Saluti ragazzi, questo è il Watermelon Channel e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio mostrarvi una cosa, che le chiavi, oltre ad aprire i cavo su Fortnite, con l'aggiornamento hanno aggiunto anche queste stazioni con questa immagine olografica dell'arma che potete ottenere, che sia epica o rara, e dovremo poi vedere se effettivamente esistono anche leggendarie. Per ora le trovate qui, dove mi trovo adesso, vicino all'albero della realtà. Siamo più o meno in questo punto qui, in un benzinaio. Mi piace questa cosa dell'aggiornamento, voglio farvi sapere anche a voi dell'esistenza. Fatemi sapere se vi siete già riprovati davanti questi, diciamo, come li possiamo chiamare? Questi dispenser di armi, diciamo. Niente, questo è tutto per il video di oggi e alla prossima!